Dall'incertezza al quasi certo, è minimale ma è pur sempre un cambio di prospettiva quello che si intravede per la Seves di Firenze. L'azienda produttrice di mattoni in vetro cemento, ferma da fine 2012, ha suscitato l'interesse di una cordata di imprenditori, come ha annunciato a metà giugno il sindaco Nardella. Una cordata in attesa dell'apertura del credito da parte delle banche, che potrebbe venire dopo il sì, questa la quasi certezza, che sembra arrivato da Fidi Toscana, la finanziaria partecipata dalla regione. Un impegno concreto per il credito che il sindacato sollecita. Il prossimo passo potrebbe essere allora il promesso riavvio della produzione con gli oltre 50 ex lavoratori della Seves, oggi in mobilità, progetto sul quale la CGL chiede delle garanzie. Al di là di questo tentativo importante di riportare nel mondo il progetto del mattone di qualità con i lavoratori e le maestranze Seves che lo facevano, al di là di questo aspetto, noi il progetto industriale non lo conosciamo per intero, quindi è chiaro che al momento in cui ci sarà questa ufficializzazione chiederemo immediatamente un incontro per affrontare questo tema e capire con che tempiste i lavoratori verranno riempiegati.